Allora, amici, partiamo dalle cose belle. Hai fatto con quell'Eurogoal un gol a tutti, a te stesso, ai tifosi e un po' anche a tutta la squadra, perché la partita sembrava essersi imbarcata male. Si era messa male dopo il loro 2 a 1, perché poi non si è riusciti a creare granché. Sono contento per il punto che si è riusciti a strappare alla fine, perché almeno è un punto che alla fine servirà e che ci porta a Natale tutti più felici. Poi sono contento anche personalmente per questa dittezza, perché mi mancava il gol. Faccio anche una battuta, sulla gatta del portiere non poteva che esserci il micio. Avevo chiesto quella palla a Ricci all'inizio del secondo tempo e il portiere si è scappata la palla. Sono stato bravo a crederti e a pareggiare la partita. Poi abbiamo visto come è andata a finire dopo. Hai sentito le parole di Protte nel torno avversario che ha detto che il Parma non meritava assolutamente di perdere la gara. Io sono parzialmente d'accordo, non per essere negativo, ma secondo me il Parma oggi è stato abbastanza riconoscibile. Qual è stato il problema? L'atteggiamento? Perché soprattutto nel primo tempo sulle seconde palle non ci siamo arrivati mai. Per il primo tempo hanno corso tanto, sono riuscito ad andare in vantaggio e hanno fatto la loro partita, quelle che avevamo preparato. Perché poi si sono snusi. Ci erano stati bravi poi nel secondo tempo a pareggiare subito e un po' meno bravi a riprendere gol a poco dopo. Però ci abbiamo creduto fino alla fine, è uscito un Eurogoal e sono contento per tutti. Ho fatto su quella stessa porta sulla quale avevi fatto un altro Eurogoal, però era per campionato. L'ultima, alla parte mia, cosa c'è da Toscana? No, mi ha fatto i complimenti per la partita e poi giustamente era contento perché anche solo in Parigi, almeno andiamo, costeggiamo il Natale tutti più felici. Raccontaci meglio quello Eurogoal, alla fine che ha evitato al Parma la prima sconfitta e preso palla avevi intenzione di mirare proprio quell'angolino. È arrivato il cross, Fabio l'ha sporcata, io ero girato le spalle, me la sono spostata e mi sono girato in fretta. Volevo calciare. Mi è uscito un Eurogoal, sono contento, volevo tirare un po' altro. Oggi è la prima punta per tutta la partita, come ti sei trovato? No, mi trovo bene in quel ruolo perché è un ruolo che ho già ricoperto e devo attaccare più la profondità e sono più vicino alla porta per le mie caratteristiche. Penso sia un vantaggio e quindi sono contento. Finito il giorno d'andata, da stilare un bilancio, come lo valuti questo giorno d'andata? Positivo. Personalmente ho iniziato bene, ho avuto un calo e ho finito bene. e per la squadra credo non ci sia molto da dire perché siamo, se non sbaglio, più sette. Abbiamo fatto un gran girone d'andata e dobbiamo ripetere anche il girone di ritorno. L'ultima, da di che particolare per la doppietta di oggi? Sono contento, lo dedico a me stesso perché mi serviva moralmente, anche questi gol mi servivano e alla mia ragazza. Altre domande? A posto? Ciao.